Gesù intercede sempre per noi, mostrando al Padre le sue piaghe. Lo ha sottolineato oggi Papa Francesco, celebrando la messa nella cappella della Domus Santa Marta. Le letture del giorno hanno permesso al Pontefice di ricordare che il Figlio di Dio, morto e risorto per la salvezza dell'umanità, veglia sempre su tutti e su ciascuno. Io posso andare avanti nella mia vita perché ho un avvocato che mi difende, ha aggiunto, e se io sono colpevole o tanti peccati, è un buon avvocato difensore. Ma c'è una cosa che Gesù fa oggi, sono sicuro che la fa. Gli fa vedere al Padre le sue piaghe. E Gesù, con le sue piaghe, prega per noi. Come se dicesse al Padre, ma Padre, questo è il prezzo di questi, eh? Aiutali, proteggeli. Sono i tuoi figli che io ho salvato, con questo. Al contrario, non si capisce perché Gesù, dopo la resurrezione, ha avuto questo corpo glorioso, bellissimo. Non c'erano i lividi, non c'erano le ferite della flagellazione, ma tutto bello, ma c'erano le piaghe, le cinque piaghe. Perché Gesù ha voluto portarline in cielo? Perché? Per pregare per noi, per farle vedere al Padre il prezzo. Questo è il prezzo. Adesso non lasciarli da soli. Aiutali. Grazie. 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 Grazie.